Fin dai primi passi, devo cercare di muovermi come se cattuarsi in mezzo. Le decorazioni floreali, le mani, il lullo del vestito, tutto oscilla come una dolce vetta. Un abito di leggero come agli di uno. Negli irritati assumo il mio atteggiamento dopo il mitoso composto. Piuttosto, devo riuscire a comunicare un'impressione di gioia. Come se questo sfrigionasse da me e poi rispondersi verso gli altri.